Questa è una cosa che mi dici io, ti faccio starci una cosa buona Oh ma sei proprio un rompipalle Ho capito, non li porta il fuoco Allora, senti, ma se questi vanno vedere che a noi ci brucia il culo Ho capito, ma il culo è il mio Ma pure il mio Siamo tornati in un nuovo video ultra piccante con il vostro Ciccioio Eurottantarato In compagnia del buon vecchio Joker che non vedeva l'ora Micchia Allora, non faremo tutto oggi Ti dico che sto in giro un po' esagerato ragazzi Io veramente ho trovato delle patatine Simone Che cazzo hai comprato? Non lo so, non lo so Sono... Tutto scemo Ho una certa acquolina, sono tutte di... Guarda, 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 Seline Eh, guarda che bello questo, te la ricordi? Ma questa è quella della patatina delle mortaci sui? Sì, ma ce n'ho un po' Ce n'ho un po' Eh, è giusto perre, no? Ce n'ho un po' Questo dovrebbero anche fare abbastanza cagare Questo? E abbiamo anche questo Carolina Reaper Senti, ma vogliamo fare queste qua che sono più o meno tutte dello stesso stile? Dici quelle di prima Puffo? Farei queste qua Queste Urca miseria, ce n'ho tre puffose Ma queste sono uguali? No, extra hot Extra hot Ah, ce n'ho due extra hot Queste le prese sono uguali Così se proprio c'hai voglia dopo te le devo rimangiarle Senti, però io oggi proverei queste Pringles intanto per addolcirci Allora, i Mega Gin sono molto carini però Sì, allora, io intanto queste le lasciamo qua tanto loro non le vedono Io inizierei con le Pringles Oh, ma quanti like? Almeno lasciate 5 like 5 like 6, dai 6 6, proprio perché stanno facendo cose rischiose Don't write this at home Vabbè, ma le Pringles non credo che... Sono cose ketchup, ti sembra? No Sì Una manciata proprio Sono buone Secondo me... Ma come queste, dai Esatto, secondo me pizzicano meno... Cioè queste pizzicano di più Dici, ha l'apparenza, non vai Beh, queste sono 113 grammi Queste sono 28 grammi Cos'è? È un fumo nero, ovvero Questa dice Carolina Reaper Gluten free Gluten free, meno male Da, ma te pare Ultimamente c'è stato un po' di sfida 3 Ma secondo me quanto possono pizzicare Allora Pizzicchiano Questa parola di le pizzicchiano Però sono buone È un buone Però Il mio massimale è questo Potrebbe essere il froncino Anzi, già Io ho 3 Carolina Libera Su 5 È un buone, dai È molto buone È un buonissimo Guarda che 3 che lo do Ando solo perché Però sono buone Ma si sente? Cioè, per la mia dosa di piccantezza Per la mia dosa di piccantezza Ti devo dire Arriva dopo Come tutti i peperoncini Non è male Sì Ma credo che questi sono Al massimo Estremamente Sono estremamente Qui mi aspetto Che mi aspetto? Qua puzza di brutto No, eh Qua puzza di brutto Il piccante non mi piace Qua mi puzza di brutto Sì Sarà anche un po' di affumigato Sbaglio Una? No, non voglio vendere più però Due? No, pure tre Ripeto Madonna, essi luri Ma quanto qua che pizziano Dai Non lo so Proviamo ma Sono anche molto salate però Però La affumigate Prova a mettere un'altra in bocca Oh Eh Ho paato Per portarci vostra Che era? Quattro e mezzo Sì, quattro e mezzo Dove? Gli toco Quattro Quattro Abbondante quattro Non male Ecco Finisce Beller Te rimane? Mmh Questa c'è sta Questa è quattro pieno Un bel quattro Proprio Pio quattro e mezzo Dici Peste patatine Eh Però non è finita qua Perché ora Noi Il prossimo video Dobbiamo assaggiare Questo Asta la vista baby Queste le vedo come Un cacciate Non so perché Non so C'è stanno i tedeschi Extreme Scharf E io le vedo cattive Mi rifaccio una Pringles Ci vediamo al prossimo appuntamento Molto acci Ne stiamo provando tutte Quindi Non è che se non pizzi Non pizzi Non è colponazzo Ma questa pizzi No Questo è Allora Questo è buone Vabbè Per ingolzare Queste Hanno il loro perché E anche tanto Molto acci Un cacciate Un cacciate Un cacciate